Per capire il Vaillant bisogna venire qui, nel cimitero dove sono ricordate le 1910 vittime di quella tragedia che l'uomo non ha voluto e saputo impedire. Sembra ieri, tanto è forte la memoria nei sopravvissuti, che continuano a ricordare perché altri Vaillant non si ripetano. Soprattutto non si rinnovi l'incoscienza dell'uomo che di fronte al profitto, al denaro, è disposto a barattare tutto. Il cavallo di Longarone è durato anni, perché io dico sempre che quella notte è stata terribile per quello appunto che è successo, per le cose. Però i giorni, i mesi, gli anni anche dopo, sono stati difficili. Difficili sia perché abbiamo perso le nostre amicizie, la nostra vita, le nostre radici e anche perché avevamo un compito molto impegnativo di ridare dignità alle nostre vittime. E dico dignità perché hanno perso la vita in maniera disumana. La notte del 9 ottobre del 1963 un'enorme frana si abbatté sull'invaso della diga del Vaillant e un'onda di 230 metri d'altezza scavalcava la diga e si abbatteva come una furia sulla valle sottostante. In soli quattro minuti è il disastro. Io c'ero e sono sopravvissuto. Quella sera eravamo, ero in famiglia e i miei genitori erano usciti. Erano andati presso la famiglia del maresciallo dei Carabinieri. Mio papà era maresciallo della forestale, quindi erano anche amici. Io ero andato a letto, poi un grande boato mi ha svegliato, ero su un dormiveglia e mi hanno recuperato sopra i murazzi verso la montagna. Sono partito con lo spostamento d'aria, insieme alla casa e poi depositato verso la montagna. Sono rimasto sotto le macerie e il mio corpo è stato protetto dal materasso del letto e quindi ritengo di essermi salvato per questo motivo. Grazie al monologo di Marco Paolini il Vaillant oggi è meta di tante visite e tante persone arrivano per pregare nel cimitero che custodisce quel che resta di una comunità. La gente viene in preghiera, a maggior parte vengono proprio come un pellegrinaggio. Infatti quando abbiamo finito la visita e salgono il pullman mi dicono delle cose che mi gratificano assai. Cioè prima hanno capito veramente quello che è successo e poi la forza che abbiamo noi nel raccontare ancora a distanza di tanti anni.